Due Coccole nasce da un sogno, una passione e un amore con la pasticceria da parte di due amiche, io e Elisabetta. Il nostro desiderio era anche quello di creare un posto incantato dove le persone che entrano si sentono come una fiaba. La nostra biscotteria, per far fronte a questo periodo difficile e per soddisfare la clientela, mette a disposizione il servizio di asporto ogni giorno nel comune di Salignano e anche nei comuni di Mitrofi. Basta una telefonata e porteremo i biscotti dolci a casa vostra.